Saluti bene bene ai furriadrogiosi literari, a sugo sta un mio, uno di ciocco, uno professore, che conosce meglio in questa mesoreda. Saluti bene bene a Francesco Gappuzzi. Saluti a tu e a tutti. D'accordo a Francesco, che conosce meglio in questa mesoreda, tu sei un amantioso della lingua sarda, della cantare sarda, ma tu sei un amantioso di Portogastro, sei un docento di informatica. Sì, sono professore, sono lavorato in inglese da tre anni, di informatica in scuola superiore, di indirizzo informatico, quindi materi informatici. Un ingegnere, sei un ingegnere elettronico. Ingegneri elettronico, capo comprendi. Quando uno fa il studio, sai, scientifico, tecnico, posso ponere su un pruso, non banderà a toccare lingua, tradizioni. Invece il nostro, il nostro sa fortuna, a Francesco, che è un informatico, che è un ingegnere, è apposto con questa competenza a servizio di questa lingua sarda, di questa cantare. Io lo saprei, adesso, sicuramente, c'è un'app che Francesco ha inventato, che è apposto, che è apposto a cantare, ma c'è un'altra porta da portare, dunque se lo so, c'è un bambino in dito, o a traspuntare, c'è un'app che è uno strumento, che è un strumento che è appareggio a lui, che rispetta tutto il suo strumento, ma, scelte che non è, è elettronico. Sì, è un aggiunto a poi sono adoresi, ma sicuramente, è uno strumento che si accosta all'oneda, sia da questioni del giorno, sia da maniera di zonare, e quindi, è così, dopo pensare, può aggiungere i sono adoresi. Bene, poi, a Sassozio, tu sei il suo presidente, c'è un Sassozio, che si impegnerà già da tempo, su Bossa Cantarasarda. Come ti hai detto a Sassozio, chi inizia e ti avevi? Sassozio, diciamo, adianto, è nato nel 2009, mi pare, per esempio, da questo inizio, abbiamo bevuto ancora nel castello, quindi abbiamo partecipato a Pago, però è attivo da otto anni, a oggi, otto, noi anni, e nasce, in sostituto, di essere scritto, che si interessa, per il scattato, di questa cantata, campiranese, non c'è scritto qui, ma, su cantare, di questa zona nostra, e, per il genere, di questa lingua sarda, di questa cultura sarda, tutto ciò che c'è, che gira a giro del resto del mondo, adianto. Chi inizia e cantando se esi? Sì, sono iscritti, su una decina, poi, altra gente, che, fatto fatto bene, di, può ascoltare, può cantare, c'è un bello gruppo, che mi ha piaciuto, a Sattubiare. E ti hai fatto, un gustos anno, sull'età, nel 2009, non ti pago, su un, 8 anno, su bonus, su delle attività, se ti hai apparecciato, se ti hai fatto? Beh, a parte, può dire sicuramente, un'associazione, di, 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 perché, tanto, come, se, vorrei, allenare, e poi, quando ci fanno, occasioni, poi, intrecciare, rapporti, con altre associazioni, e poi, posto pubblico, non, adesso, ci, causa, de, promuovere, sa, 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 cultura, sarda, e quindi, su, ganto, desei, e ho, fatto, ma, proprio, cosa, materiale, sì, uno, de, piano, esplicativo, non, indirgono, apparecciato su, tali con una cantata, e ho, fatto, già su internet, con un archivio, di cantata, questa cosa, è che importa, un archivio, su cantata, ci, invece, vaga, è nuda, poi, se, manti, osso, pochini, puoi comprendere, che, alcuna cosa, non, se, interessato, non, se, su, nomini, del soggetto, ai cì? è, di, antus, scritto, t h, d, a, n, t, h, us.altervista.org In cui, dite, a gattauso? A gattauso, questa pagina, le presentazioni, dei soci, e poi, dove, esti, una, una sezione, che si, narra, la ricorta, scantare, e, uno, intra, la, una, in moes, l'ompe, sa, 40, d'uso, ma, sa, vini, punti, città, sa, de, 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 soci, su, se, se, digitalizenti, de Zika, po', po', gatta, una, po' nai, mi interessa, se, cantare, tra, su, 90, e, 90, zesi, vattas, in Capurera, a, onde, cantare, urro, po' nai, non è preciso, e, se, cantare, o, cantare, quando, fui, n, in Zika, a tenu, un informatico, amantioso, san linguazarda, este, un vantaggio, umano, o, no, si, zika, po', esta cosa, esta cosa, ma, vado a cantare, de un'epoca, de grande, zinghizawa, e, a, poi, moi, principalmente, Faust Azori, un socio, che, mari, s'ha entregato, s'archivio, antes, in tot, una, una, un, cento, cacetasa, e, per, tutto, vantivata, fra, su, 90, e su, 90, zesi, gustasa, poi, s'idea, de, de, zika, si, s'idea, nasce, de, su, fato, c'ha, un montone, de, appassionados, che, però, funti, ma, tu, che, dos, ne, re, e, sa, succede, e, chi, ad un, non, si, mori, sa, sa, cosa, si, s'perdi, c'è, i, israeli, non, s'interessan, e, quindi, c'è, un, un, matrimonio, si, perdendi, in prospettiva, una fundazione, può, può, negare tutto questa cosa, creare un archivio istituzionale, e, però, è, come, 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 l'associazione, tutti, si, appassionadoso, chi, bollenti, si, bollenti, donai, gustos archivios, digitalizzati, poi, non c'è problema, proposto. Dunque, se si, comprendi bene, non si, indivigano, da nuda, su che, sa, roppietari, avrà, la, debozartus e, totto, da, entregarsi, a, issu, si, davo, pianta, su, tempo, su, chi, servire, la, digitalizzare, avresti, un mese, due mesi, poi, si, torna, torna, in mano, su, debozartus, ora, adome, debozartus e, totto, però, inizio interi, si, tesi, vatto, e, si, vato, manera, su, chiedenesi, debozartus, sigara, abivi, vincese, appustisi, debozartus, vota, sa, rischio, mano, e, questo, denciverdi, dotto, de, noia, binti, trintanus, de, non teni, bruso, tracciasa, per una, per uno, materiali, decanto, esta, contese, negli anni 90, negli anni 80, e, mancai, non rende, corru, ma, mancai, esti, dedio, che si, registrando, dunque, non era, diadero, a totto, ma, vincese, non era, a, ai, ai, nevorisi, dei, amantiosi, della, di, di, cantarazza, che, mancai, non ci, vunti, bruso, e, mancai, i, cattavo, in dom, in, cia, posento, esagattavis, cascittasa, esagregistratasa, de babbo, o de iaio, non ci, da, a, fu, e, se, proprio, non la, avorei, bruso, contattai, francesco, capuzzi, contattai, sa sozio, di antus, a regaletas, a donetas, a tanti, se non, sin incuraisi, bruso, però, isso, invece, diventi, uno schizorgio umano, de, denesi, bosartzo. Ponei, avarene, questo argomento, studiando, leggendo, cantare, aveci, sa, tanto, dos cantadores, dove si è scritto, Sarbario, luogo de, de esprimo, de su noigento, che vi ho andato a cantare in mano su, un certo, Battista Corona, e, Puliga, mi pare, di Sarbarori, però, non, non, non dice un nudo, cioè, cantare in mano su, de Carbonia, e non agatta uso, c'è, 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 una cantata, un, c'è, un libretto, ma, di Biografia, non, c'è un nudo, poi, non è una cosa, un'altra questione, fotografia, fotografia, c'è, Calincuna, Calincuna, video, degli anni, 80, in poi, anni 60, 70, non c'è, nuda, e non è possibile, Calincuna, sicuramente, indirene, di fotografia, dei cantare, ma, anche, non fatta, a Subalco, ma, fotografia, a 11, fino a Subalco, questa fotografia, poi, e questo, è, adesso, un, un risorvo, questa cultura nostra, a finire tutte le cose, ad avere con noi. L'impegno di Sassosio, può, a rigoli, su questo contesto, in un certo tempo, su Passau, ma, un impegno, vincere, su questo tempo, su Benidori, questi, di gustatisi, di gustatisi, di gustatisi, di esparigliamento, di un corso, fatto, poi, esamantiosi, ma, vincere, pochini, di macchi appago, di Cantare Sarda, strogasi meno, sui tassi, esparigli, di popoli, c'è, questa questione, è partita, di ragione, di Indie, il problema, oggi, è di questa cantata, il cantare, ci vunti, che indagano, fino a giovane, su chi c'è pago, è sul pubblico, c'è pago, picciò, cosa che si intenzia, santa, e, quali, può dire, è questo problema, sicuramente, la lingua è uno dei problemi, ma noi, è una cosa scelta, secondo noi, il problema è, che uno non conosce, le regole, la sua canta, Non ti apprezzare, e quindi puoi apprezzare, bisogna conoscere le regole, e poi conoscere le regole, bisogna provare a cantare. E come ti rendi sui palloni? Mella volta che fai sui paragoni, non sembra la merda a cantare. Se uno non gioca a palloni, non manda a castare le partite, ho chiesto, ma poi ti muoio, ormai sui palloni non conosciamo tutti. Ma il appassionato gioca e critica, se uno non gioca, non critica nemmeno. E quindi, se ti prendi questo corso, puoi dare il minimo delle basi, si può comprare una cantata, e poi un po' di improvvisazione, che uno vuole provare a dove vai. Perdonati a Dio, se ho commenti forci, si merano a dei miei amici e amiche, che hai avuto ascoltandosi, ignoranti di questa materia. Quali punti cosa ha da importo, puoi comprendere una cantata? Dove mi presento, non parlo, con questi punti, quattro cantaroghi, successo contro, alcuni. E te, chi te puoi comprendere? Che chiesto a Bici, poi ti ha guido, cominci a comprendere nessuna cosa. La scena di banda questa lingua è scontata. Prima cosa dopo la comprensione. Il secondo è il sviluppo di questa cantata. Vabbè, ma è questo uno che gasta 5 minuti di comprendere, cantano tra i cantatori, si, ad ognuno su turno su, quindi comincia su primo, secondo, terzo, quarto, poi torra su primo. E vabbè, in cui non si usa ancora intuitiva. La cosa più difficile è, in tanti che, in tutto su che canta a doni cantatori, tocca da Asherai, due messaggi su questi punti. Non è come se fosse un commento di sottare la locutoressa o l'italiana, vogliamo. Doni cantatori compone di su canto, canta da otto versi, otto versi. E sognare, è chiaro, è questo. Invece, se il canto campinanese, potrei prendere, per esempio, su Tralera. Funti quattro versi, ma funti a capire, due a due, non è uno messaggio unico. E quindi, quando uno cantano, cantano. Prima cosa, torri a Soghiapunau, tocca da Asherai, che lì è il messaggio principale e che lì è il messaggio secondario, non è l'usaici. E i nomi sono questa rima, che è la parte principale, e questa sterrina, che è la parte secondaria. Parire è una cosa storica, ma sta dicendo, su canto nostro, tenete questa particolarità. Ad ogni componimento, è preso in due parti che non tenete a capio semantico, entro esso. Scelte un a capio della rima, non è così. Posso fare un esempio? Un muteto antico, imparato. Cantavo, e sta dicendo, in Samate Suspiku, cantala su Rosignolo. Ecco questa serrina? Non è il messaggio. Poi, torri a pegare, in Samate Suspiku, ci capis tu isolo, sugoro me e pittico. Ecco questa rima? Cantare su Rosignolo, sugoro me e pittico, ci capis tu isolo. E quindi, se Rosignolo non c'è nulla con sugoro. Però, il suo componimento è il traici. E la parte principale è, in sugoro me e pittico, ci capis tu isolo. Un muteto di amore, non è reso. E poi, compone in Samate Suspiku, ci è costato due versi, che d'orrenta, che fa interrima con sa parte principale. Coro, pittico, spicco, solo, rosignolo. Sarima. Quindi, in Samate Suspiku, sugoro me e pittico. Ci capis tu isolo, cantala su Rosignolo. E quindi, poi, a comprensimo di noi, tocca a poichine come senti, mancare se tu scrivi uno. E quindi, se la difficoltà è il costo. Uno intende uno scanto verso, e poi uscire con mentire, che li ha di sterrino, che li ha di rima. Poi, non è stato difficile. Una volta che uno lo comprende, bene, automatico. E una cosa particolare, poi noi, in scantata, ci sono appassionati, con la registrazione a cassetta. E poi, durante, ci sono sempre, ma i digitali. che lì è il suo problema. Sicuramente, se c'è scelta, se c'è scelta di un'ora, o 90 minuti, non ci capisci tutto se cantare. E poi, cominciamo a assumere il tettino, a sterrino, registrano tutto. Il primo giro con San Rima, registrano, poi firmano. Tanti sabati principali, poi fira in Gunis. Poi tutto esatto, fonti a retrogas, cioè tornano i propri versi, con un'ambianza di differenti. con un'ambianza di questionario, poi automaticamente, pare che non fessi mai ascoltare, toccando l'attacca, il momento preciso è giusto. È proprio del riflesso. E quindi, questa questione è questa, se uno non scelta, non pone in mente il pagu pagu, a cari punti in regola, non ti basti. di questo corso, quando vuoi inghiere? Se io pensavo, a metà del gennaio, io vorrei pagu. Ah, dunque, è una questione del pagu fila. Iscritto sono già i sciugan 50 punti, ma se qualcuno ancora si lo raggiungi, se lo raggiungi, a cui si la fai? In questa circoscrizione di Sganaus, questa serie di... Dunque, questa serie di questa circoscrizione di Beccia di Sganaus, e si è già irisi, se io pensavo, perché sicuramente si accennavano a Medicedo del sese e mezzo, per esempio, per esempio, il sese e mezzo o sette, e si accennavano a Isganaus. Sempre il contatto su tutti i suoi due, sui soci, o di altri. Samele, arregorta, chioccio alla gmail.com chi ne vuole iscriversa a mele. Poi, tu hai una quota di iscrizioni? Sì, la quota di iscrizioni è il suo socio, chiesti, ma... Ah, con questa associazione e quindi, io voglio, partecipare. Cantarasa, fuori o sei cantarasa, come ti stai andando a parimento tu? Canto Cantarasa, tu hai cantato Cantarasa, assisti nel 2017? e, devo, a paro, se cantare in palco ormai poi questa festa pubblica è una pago perdendo come dire non funziona tutto questo che è un'aula il suo pubblico non comprende il suo cantare e quindi tocca da fare a tutti precisi su un po' di appassionato oppure poi scrivendo in palermo poi andiamo in scuola a fare una cantare in palco in pubblico in mezzo di una festa funziona ma pago ormai in certo luogo funziona ci punti brazza sabona ancora in ciusul ci sono cinque punti in ciusul ci sia che hanno fai di donna abita fare se cantare però ho i calici punti ancora Sant'Annaresi Narcao Perdajus un po' di noi però Giba non è davanti di Diora Sant'Anna non è davanti di Diora Portescusi sull'occhio di Diora Mera che non è davanti invece su sulcisi profondo però Masain aguanta sempre davanti Marone Sassaluri davanti sempre Tattalias ho canone di Vata Tereseu avanti 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 e poi poi avanti il pubblico è calcino di sabida e tutti appassionati su cui vengono proprio che girano le sabbide del campionato e del sul giusto gente nuova che si accoste di ascoltare non si pagano nuda chi questo giovane cantano i cantaroi giovane su Gioveno che c'è Gigi Zunchedu dei Burcei tenere 6 giovane poi da zona c'è Pierpaolo qui ha una trentina di anni poi c'è in Burcei c'è i farimoni trenti una bintina uno e facer 40 e poi esatto i cantarori sono 50 60 70 50 60 60 giovane su Gioveno non nominavano cantarori cantarori edu però cantare non sono fatti i uro in c'è tutta una saggestione di scantare cantare in palco a verso però è molto lungo su in privato non siamo messi a palco quindi non mi posso essere professionista non posso dire comprens comprensimo qui è una lingua sarda è una trasmissione che nasce da scanto mesi fai e si fai in sardo scelta vincenze editori tu una difficoltà risi e comprensimo cantare e fin c'è questa lingua e ti sta in questa lingua in su sul ci si parli cosa tu è grave questa situazione non ho scelto su sul c'è se che i piccioccus non ho due questioni ma che tu comprendi ancora fortuna però chi ti ti impagano posso rischio debo non se ho tutto però se ho bene che l'incun miglioramento delle percezioni ci c'è mera piccioccus che ti interessa a imparare a comprenere cosa che man c'è già non fa non accontentare eh no c'è stia su manco sa sa buona volontà di può imparare può ascoltare a chi non si i saccorti ma i voici si fu io su e ti rispondi tu no non ti puoi scusate a chi vende che il nostro che ha lavorato su lingua sarda si vende i saccorti ma i voici si fu io su c'hai di tempos eh no non si vuoi sempre correre il boi basta traballare bene e ancora non si usa questa critica definitiva c'è tempo se potrà ballare tenendo ancora sudan tipo vai melus e poi torrai vincere se pinigai e fai il risultato su bonus ancora non penso che torrai mai come fu nel passato monolingua sarda ma ormai è anacronismo però se manco una situazione del bilinguismo penso che ancora ci sia la possibilità di da tra i gai se in carri rendi con casa serrara vincere le trasmissioni di un literario di di oggi devo cercare con due cose torrai a remonare bene i dati su questo corso che è una cosa di importo e poi cerrai con una app app una fortuna teni un informatico appassionato della lingua sarda poi temere su chi mori fai e già i fendi dunque in tanti a remonare su corso può imparare a cantare non può pensare cantare se speravo che nessuno è francisco non dice cantare di questo corso manca i vestiti di 1 2 e 13 di cantare ma questo accompagnare a comprare questa cantare a fare un crescere pubblico di cantare sarda dunque su corso è già a parigi gli esperti su cifunti gli insegnanti in cifunti inghizzare dei noi ad a giras a mettere le mese genar giù penso manco non custa noi non custa girati manco sattra ancora sattra 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 genar sattra quattro non muda nuda però è tutto pronto ci punti già su scritto se questo vai pre giù dunque su corso già si balli e poi punti punti piccioccus e picciocca piccioccus e picciocca giovano gente giovane questo la sera spera buona sa genabara in sa sei della circostituzione beccia di isganaus faccio le stesse messe dunque si impigna su del rabballo punti già accabaus potesi andai a isganaus a cui cesti questo corso e in serrara c'è si vai questo regalo francesco si vai se conosce questa app che si inventa ora denidi insa su strumento strumento tecnologico su nomine Contrammatic è un software che ho già provato in poi ho fatto un app per android non è così che serve che faccia grande cose può accompagnare su mutteto a basso e contra un'altra cosa che mancai non tutti usciti è su mutteto si accompagnare la guitarra o a basso e contra che restano bocce scutturali e su di gustos d'uso che si accostano a pai e fai inti come non te deus questa è registrata vunti cogoni e valleste quarto a di maniera che possa pagare sagrai e poi ci sono le sceglie per fare un po' di testo e poi ci sono i conti già i suoi cantano e poi ci sono i suoi e quindi poi noi torniamo a un mottetto di prima su Rosignolo quando cantiamo con trammatic Questa è rina. Questa è la retrograzione. 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 Adiosu. 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 Adiosu.